E finisce qui la partita al Dallara, Bologna-Milan 2-1 per il Milan, il Milan che vince il trasferto con il Bologna con sofferenza e il Milan è ancora primo. Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giappiazz oggi, siamo arrivati qui ragazzi in un nuovo video, siamo appunto qui nel Giappiazz commentare per commentare il post partita di Bologna-Milan che finisce 1-2. Partita che prima di parlare della partita vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, quindi tanti mi piace, un commento scrivendomi la vostra sulla partita se l'avete vista, condividete il video se siete nuovi mi raccomando non costa niente, iscrivetevi al canale, attivate la campagna delle notifiche, seguitemi sui social che trovate il link in descrizione se siete su Instagram e se siete sulla piattaforma Vior trovate il link sotto, in descrizione sempre Giappiazz, se siete persi gli ultimi video li trovate nelle schede a fine video. Mi raccomando dopo stasera ci sarà il post partita di Inter Benevento, giovi anticipo e vi ricordo che passate sempre nella descrizione il 3 febbraio, quindi mercoledì 3 febbraio dalle ore 8 circa, quindi dalle 20, 19 e 45 barra 20 saremo in live sul canale di Fantagol per fare l'asta di riparazione del fantacalcio, quindi vi invito a passare nella sua live. Trovate comunque il link dei partecipanti, dei miei amici che trovate tutti quanti i link sotto in descrizione, vi invito a andarli a seguire. Parlando della partita, il Milan che con sofferenza vince ancora, vince ancora, rimane prima come campione di stato inverno e rimane anche al girone di Boa, al ritorno del girone di Boa rimane sempre prima. Partita, devo dire, primo tempo il Milan in cui ha giocato una gran partita, meritava anche di andare in vantaggio con più reti. In realtà, diciamo, c'è stato il primo gol appunto al rival, c'è un calcio, diciamo che il Milan inizialmente inizia molto bene a giocare, c'è praticamente diversi interventi di Skorupski che salva la porta del Bologna. Poi c'è un fallo di Dykes su Sallemakers, mi pare, c'è calcio di rigore per il Milan, si presenta appunto Ibra Imovic sul dischetto, Ibra purtroppo sbaglia il calcio di rigore. Ennesimo rigore sbagliato di Ibra e io ce l'ho al fantacalcio e non potete capire quelli smadononi che ho tirato giù perché Ibra al fantacalcio meno 3, 5 e mezzo, meno 3, 2 e mezzo e già ho perso la giornata. Però segna sulla ribattuta appunto Skorupski che intuisce il calcio di rigore e sulla respinta appunto segna Ante Rebic il gol dell'1 a 0, al venuto 26. Poi il Milan cerca comunque in tutti i modi di passare sul 2 a 0 ma sempre Skorupski che fa i miracoli, para de tutto, oggi Skorupski penso è il migliore in campo del Bologna, ha parato veramente de tutto e de più. E poi in realtà il Milan dopo finisce diciamo 1 a 0 il primo tempo, al secondo tempo invece il Milan errore, grandissimo errore di Sumarò che praticamente fallo di mano di Sumarò dentro l'area, quindi ennesimo calcio di rigore appunto per il Milan, quindi secondo calcio di rigore fallo di Sumarò, fallo di mano di Sumarò appunto al 55esimo che si con freddezza segna il gol del 2 a 0, appunto si dimostra un cecchino sui calci di rigore, ovviamente penso sia lui ormai il rigorista, spero, spero perché Ibra è meglio segniti dai rigori per il mio fantacalcio. Quindi segna il rigore del 2 a 0 e poi comunque il Milan diciamo che continua a giocare bene fino agli ultimi 20 minuti di partita, che succede? Il Bologna fa i cambi praticamente e appunto i cambi sono cambi importanti che appunto portano il Bologna a giocare meglio, l'ultimo 20 minuti ha giocato meglio il Bologna, infatti appunto arriva il gol dell'ex Poli al minuto 81, errore, errore di Teo Hernandez che sbaglia, cerca un dribbling, sbaglia questo dribbling, perde palla e poi appunto assist di Scovolsen, gol di Poli, gol dell'ex Poli 2 a 1, il Bologna accorcia distanze da lì in poi, agli ultimi 20 minuti il Bologna prova a pareggiare la partita ma si fa trovare pronto il signor Gianluigi Donnarumma che salva la baracca a questo Milan, un giocatore, un portiere, penso uno dei portieri più forti d'Europa, o se non del mondo, appunto si è fatto trovare pronto e anche grazie a Donnarumma il Milan riesce a salvarsi e il Milan appunto vince 2 a 1 contro il Bologna, voglio sapere la vostra, partita veramente bella da vedere, soprattutto al secondo tempo c'è stata molto che il Bologna ci ha provato in tutti i modi e il Milan ripartiva in contropiede con sofferenza, però si è portata questa vittoria a casa, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti se questo Milan può vincere lo Scudetto, ragazzi questo Milan se continua così secondo me lo può vincere a Manibus, no Manibus no, però lo può vincere lo Scudetto secondo me, farò io sapere la vostra, un mi piace, un commento, una bella condivisione, se no iscrivetevi e attivate la campanellina, niente ragazzi vi ricordo stasera post partita di Inter Benevento, vi aspetto, da qui è tutto e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi, sempre e comunque forza del calcio, dai, vamos, ciao ragazzi!